allora siamo qui con antonio palladino autore di denti perfetti diventato subito bestseller amazon antonio come ti senti e giacomo sinceramente non mi sarei mai aspettato di raggiungere questo risultato quindi sono felicissimo è stata una grande sfida quella di scrivere un libro e raggiungere in così breve tempo un così grande traguardo è un qualcosa di sensazionale anzi ti ringrazio per la tua collaborazione validissima grazie perché poi comunque il merito è sempre dell'autore che si impegna sta lì mesi e mesi per scrivere un libro e poi non è scontato che abbia un risultato insomma dei clienti bestseller però la cosa interessante che è scritto un libro professionale cioè sei un dentista e scritto un libro su come avere i denti perfetti in particolare sull'impiantologia computer guidata magari spiegaci un attimo cosa è scritto nel libro come funziona certo il tutto in realtà è nato da ciò che ho constatato quotidianamente cioè che gran parte dei pazienti non è a conoscenza di particolari tecniche e tecnologie che oggi sono a disposizione di tutti noi dentisti tra queste in particolar modo l'implantologia computer guidata che è una tecnica che consente in gran parte dei casi di riavere dei denti fissi in un'unica seduta il più delle volte senza effettuare tagli alle gengive questa tecnica logicamente è rivolta a quei pazienti che per via molto spesso dell'odontofobia cioè della fa della paura del dentista per anni hanno trascurato la loro bocca e quindi arrivano in studio praticamente con delle bocche scusatevi il termine disastrate in cui più delle volte bisogna rimuovere i pochi denti presenti e pensare a una riabilitazione protesica spesso questi rinunciano alla possibilità di avere dei denti fissi per paura io in questo libro vado a spiegare in realtà che la tecnologia oggi ci offre delle tecniche per cui andare dal dentista non deve assolutamente più far paura la prima è l'implantologia computer guidata che appena accennato in cui ribadisco il paziente può in poche ore di tempo tornare ad avere un sorriso bello e forte senza la necessità di fare grossi interventi chirurgici nel testo si parla anche di altre tecniche avanzate quali l'impronta non più con la solita pasta che a molti pazienti fa paura ma con un innovativo scanner intraorale che in grado in pochi secondi di registrare delle impronte molto precise dei nostri denti si parlerà anche della sedazione cosciente che un ulteriore tecnica che consente di vivere in assoluta tranquillità l'esperienza dal dentista si parlerà anche di un'anestesia computerizzata per chi ha paura del lago è un tipo di anestesia che consente di non sentire alcuna puntura durante l'anestesia e quindi è un testo che spero risulti utile ai tanti pazienti che hanno visto il dentista sempre come qualcosa di che induce timore un qualcosa da lasciare in ultima analisi proprio quando si ha dolore è che mi ha incuriosito perché hai parlato ecco di tecniche che non ho mai sentito eppure voglio dire come tutti sono stato anche dal dentista ed è molto interessante anche la situazione senza sentire l'ago mi ha incuriosito no ecco quindi per chi legge il tuo libro al di là dell'aspetto divulgativo del libro stesso poi le persone si possono rivolgere direttamente a te al tuo studio raccontaci un attimo quali sono i tuoi punti di differenziazione e anche in quale città sei non d'italia io sono a barletta in puglia in realtà io ho sempre avuto una particolare propensione una particolare passione definiamola così per la tecnologia e quindi ho cercato di coniugare questa passione con l'altra mia grande passione che è quella dell'odontoiatria il testo vuole essere anzitutto un qualcosa di esplicativo per i pazienti che non necessariamente debbano essere miei pazienti a me interessa far conoscere ciò che la tecnologia oggi mette a disposizione e quindi magari regalare una possibilità in più a chi nel tempo si è precluso questa grande opportunità assolutamente mi sembra l'intento giusto hai deciso di scrivere un libro proprio per questo quindi la mia ultima domanda è come mai hai deciso di pubblicare questo libro con bruno editore giacomo io devo dire che ti ho conosciuto ormai qualche anno fa e se da quando ci siamo conosciuti mi hai trasmesso anzitutto notevole entusiasmo e carica positiva che non guasta in più devo dire che anche ascoltando altre persone che negli anni si sono rivolte a te ho avuto la conferma che in realtà sei e siete perché in realtà dietro di te c'è un grande gruppo di persone molto disponibili che ti affiancano ti portano man mano nella realizzazione di un qualcosa che almeno per me era totalmente nuovo anzi ti ringrazio perché sia te ma anche tutti i tuoi collaboratori mi siete stati molto vicini in questo percorso bene bene grazie mille antonio ti ringrazio per questa intervista e vorrei invitare tutte le persone che stanno guardando questo video a andare su amazon e cercare antonio palladino denti perfetti perché se avete un dubbio una domanda una qualsiasi esigenza legata ai vostri denti al vostro sorriso alla paura del dentista questo libro può darvi veramente tante risposte e antonio da barletta quindi volendo per tutta italia può sicuramente accompagnarvi in questo percorso grazie a tutti e grazie antonio ciao